acqua calma fuoco imprevedibile aria fresca e la forte terra e insieme sono i quattro elementi di Wuhu! come si divertono i quattro elementi a una festa? scoprilo nel nuovo video di Wuhu! buongiorno fuoco è ora di alzarsi togliti la coperta la prima la seconda la terza la quarta la quinta e la sesta ci sono molte coperte qui ma non è ancora finita questa ragazza calda adora dormire sul carbone le piace avere un letto caldo buongiorno acqua questo elemento utilizza il bagno al posto di una camera da letto posso risparmiare tempo sulla doccia mattutina ho bisogno di una sferzata di energia al mattino la mia bevanda preferita è l'acqua cosa bevo oggi? acqua decaffinata? acqua senza zucchero? prenderò dell'acqua per espresso forte buongiorno aria ha delle campane a vento come sveglia svegliati ho volato di nuovo nel sonno un leggero sbadiglio arioso ah ho quasi mangiato di nuovo le foglie buongiorno terra la natura si sveglia con questo elemento cosa mangiamo a colazione? coltiverò rapidamente delle verdure fresche e sane per me stessa mmm fantastico mangerò un'insalata fresca per colazione amo il cibo biologico buongiorno miei animali domestici verdi oggi è il compleanno di aria deve inviare gli inviti tutte le mie amiche sono invitate fuoco, terra e acqua manderò gli inviti tramite posta aerea volate verso la vostra destinazione aeroplanini buona fortuna c'è di nuovo il sole mi asciugherò ho bisogno di ombra forse qualcosa di più grande no non funziona niente i raggi luminosi mi trasformeranno in vapore molto presto e rimarrà solo una nuvola che triste destino ecco fiore bevi le mie lacrime questo mondo non apprezza l'acqua oh cos'è? un invito alla festa di compleanno di aria? sì! cos'è? vediamo ops la carta è facilmente infiammabile ora non so cosa c'era scritto oh un altro tentativo questa volta l'aereo è ignifugo sì è un invito a una festa di compleanno la terra ha bisogno di una pausa cos'è? aria mi sta invitando alla sua festa che bello! ma non è carino usare la carta per questo un albero è morto per te lo so posso trasformare questo aereo in un loto e darlo alla festeggiata come regalo il riciclaggio è la cosa migliore in assoluto è ora di prepararsi farò un'acconciatura veloce con le mie mani e un vestito infuocato un vestito hot quale fragranza floreale dovrei indossare oggi? profumo alla rosa? no che ne dici di alcune note autunnali? a meno che... no ma se... ancora no metterò un bouquet estivo selvaggio una corona di fiori freschi è l'unica cosa che può migliorare il mio umore avanti fiori! fiorite! dai! che cosa? solo uno una misera rosa beh oggi è una brutta giornata per i capelli ma sto comunque bene aria ha il suo metodo per lo styling ho bisogno di vento forte e di una lacca per capelli super forte fatto! ho un intero castello d'aria in testa arriverò alla festa alla velocità della luce sarò lì con un solo tocco di fiamma dov'è il mio spruzzino? sto andando alla festa per arrivarci senza traffico passerò sottoterra ciao amica buon compleanno questa è per te la migliore legna per il tuo fuoco wow grazie è proprio quello che volevo ed ecco acqua ciao festeggiata questa è per te wow grazie acqua questa è acqua ghiacciata del 1975 è super rara è ringiovanente dell'acqua è un regalo orribile ed è anche pericolosa ciao amiche buon compleanno aria ecco un fiore di carta per te non sprecare mai più la carta preferisco che mi invii un'email ok terra scusami e ora divertiamoci che bella festa aria adoro le tue decorazioni ho portato i marshmallow servitevi possiamo arrostirli sul mio fuoco portatile mmm fatto buonissimi ottima idea fuoco la tua idea dei marshmallow è stata geniale grazie prego non è stato un grande problema per me e ora possiamo ballare seguitemi giochiamo al limbo ed ecco un alieno della giungla venite qui divertiamoci guardate che flessibilità aria brindiamo a te bella festa e ora giochiamo ai mimi inizio io indovinate cos'è questo una rana spia una rana spia sbagliato impegnatevi di più che cos'è questo qualcuno che è stato schiacciato contro la porta della metropolitana no ok adesso è un ballo tiktok alla moda no adesso forse ne non lo sappiamo acqua ci dispiace ok era sempre l'acqua facciamo un altro gioco dovete capire di chi è il nome sulla nota adesiva attaccatelo alla fronte sembra che i nomi corrispondano ma terra l'adesivo capovolto questo gioco è molto interessante mangiamo la torta di compleanno sì andiamo esprimo un desiderio e spengo le candeline aria hai fatto di nuovo un tornado e hai spazzato via la torta ops mi dispiace fa niente buon compleanno e ora ecco la nostra parte preferita della festa faccio un po' di schiuma soffia aria benvenuti al nostro schiuma party è molto divertente buon compleanno ti sono piaciuti i nostri quattro elementi allora commenta qui sotto e dici chi ti è piaciuta di più aria acqua fuoco o terra e voi ragazzi iscrivetevi al nostro canale mettete like a questo video e fate click sulla campanella non perdetevi nessun nuovo esilarante video di woohoo ciao ciao ciao